Andiamo ora a vedere insieme alcune letture di testi degli autori dell'illuminismo. In primo luogo vi propongo un passo tratto dal candido di Voltaire, Candide, o l'ottimismo. Vi leggerò in primo luogo la sintesi della trama di quest'opera e poi andiamo a leggere la parte finale, commentandola brevemente. Candide, che è il protagonista, è un ragazzo educato alla filosofia ottimista di Leibniz, un filosofo e matematico tedesco molto importante che appunto basava le proprie idee sulla scienza, sulla ragione e quindi estremamente ottimista rispetto ad altri filosofi. La filosofia di Leibniz è insegnata a Candide dal suo precettore, cioè dal suo maestro, che si chiama Pangolos. Candide vive nel castello di Thundertentrocken, un nome inventato, convinto che la ragione guidi ogni azione umana e che un ordine razionale voluto da Dio domini la natura. Un giorno, per aver rubato, tra virgolette, quindi è colto da qualche cosa di irrazionale come la passione amorosa, quindi tenta di baciare la bella Cunegonda, quindi per questo gesto, per aver tentato di baciare Cunegonda, figlia del castellano, viene scacciato dal castello e costretto a peregrinare per tutto il mondo. Scopre così, a sue spese, che la teoria del suo maestro, cioè che viviamo in un mondo perfetto, c'è da essere ottimisti, quantomeno se il mondo non è perfetto è il migliore dei mondi possibili, quindi questa teoria, Candide lo scopre a sue spese, non corrisponde alla realtà della vita. Infatti sperimenta truffe, rapine, torture e vede violenze e ingiustizie. Infine, a Costantinopoli, dopo mille peregrinazioni e avventure, vissute insieme a Pangloss, ritrova Cunegonda, che è invecchiata, si è imbruttita, ma la sposa allo stesso per lealtà alla sua iniziale promessa d'amore. Poi si stabilisce in una fattoria sul Bosforo, quindi vicino a Costantinopoli, Istanbul, dove si mette a lavorare la terra e riflette sul significato della propria esperienza. Da giovane sognatore che era, ad adulto concreto, diventato concreto in base alle proprie esperienze. E, tuttavia, la constatazione dei mali del mondo, dei mali del vivere, non diventa in lui un triste pessimismo, ma un invito all'operosità quotidiana, quindi non lasciarsi andare, ma darsi da fare per migliorare le cose. Uno dei concetti espressi in questo passo finale è proprio che il lavoro salva l'uomo, perché lo libera dalla noia, dal vizio e dalla miseria e rende il mondo un posto migliore. Andiamo quindi a leggere la parte finale di questo testo, che abbiamo anche nelle dispense, le trovate a pagina 89 e seguenti. Pangloss confessava d'aver sempre orribilmente sofferto, ma siccome aveva sostenuto una volta che tutto andava a meraviglia, seguitava a sostenerlo e non credeva a niente. Vi era nel vicinato un dervis famosissimo, che passava per uno dei migliori filosofi della Turchia. I dervini nel mondo orientale, i dervisci, sono figure con una valenza anche religiosa, mistici, comunque qua è un personaggio, un saggio in sostanza, che era considerato uno dei migliori filosofi dei più sapienti della Turchia. Essi andarono a consultarlo. Pangloss si fece avanti e disse, Maestro, noi veniamo a pregarvi di dirci perché un animale così stravagante come l'uomo è stato formato. Ecco quindi che cosa vogliono sapere il senso della vita da un saggio, da un filosofo. Di che ti occupi tu? disse il dervis. Tocca egli a te? Ma, reverendo padre, disse Candido, vi sono dei mali orribili sulla terra. Che ti importa? soggiunse il dervis. Che vi sia del male o del bene? Quando sua altezza spedisce un vascello in Egitto, si imbarazza ella se i topi vi siano all'oraggio o no? E quindi il dervis sembra dirgli, a voi che cosa ve ne importa? Perché vi ponete queste domande così lontane dalla realtà quotidiana. Che bisogna dunque fare? disse Pangloss. Tacere, rispose il dervis. Io mi lusingava, disse Pangloss, di ragionare un poco con voi degli effetti e delle cause del migliore dei mondi possibili, dell'origine del male, della natura dell'anima e dell'armonia prestabilita. Il dervis, a tali parole, gli serrò l'uscio in faccia. Lui caccia via, non vuole discussioni su queste cose, non vuole porsi problemi di questo tipo. Forse la saggezza in quel caso stava nel vivere la vita semplicemente giorno per giorno. Nel tempo di questa conversazione si sparse la nuova, cioè la notizia, che erano stati strangolati a Costantinopoli due visiri del Soglio e il Mufti e che erano stati impalati diversi loro amici. Ecco, quindi violenze dovute a rivolgimenti politici, di capi politici che cadono. Questa catastrofe fece per tutto un grande strepito di poche ore. Quindi si diffonde questa notizia. Pangloss, Candido e Martino, ritornando alla villetta, si incontrarono con un buon vecchio che prendeva il fresco sulla sua porta sotto un pergolato di aranci. Pangloss, che era altrettanto curioso quanto ragionatore, gli domandò come si chiamava il Mufti che era stato strangolato. «Io non so niente», rispose il buon uomo, «e non ho mai saputo il nome di alcun Mufti né di alcun vizir, anzi, ignoro il caso di cui mi parlate. Son di parere bensì che, generalmente, coloro che si mescolano negli affari pubblici qualche volta miseramente periscono, e non senza lor colpa. Ma non mi informo mai di ciò che si fa a Costantinopoli. Mi contento di mandare a vendervi le frutta del giardino che io coltivo». Dopo tali parole, egli fece entrare i forestieri nella sua casa. Due sue figlie e due suoi figli presentarono loro diverse qualità di sorbetti che essi facevano, di caimac macolato, di scorze di cedrato candito, di aranci, di cedri di limoni, di pistacchi e di caffè di moca, che non era appunto mescolato col cattivo caffè di Batavia e delle isole. Dopodiché le due ragazze di quel buon musulmano profumarono le barbe a Candido, a Pangloss e a Martino. «Voi dovete avere», disse Candido al turco, «una vasta e magnifica terra». «Io non ho che venti staia», rispose il turco, «le coltivo coi miei figli e il lavoro mi allontana da noi tre mali, la noia, il vizio e il bisogno». Candido, ritornando alla sua villetta, fece delle profonde riflessioni sul discorso del turco e disse a Pangloss e a Martino, «Quel buon vecchio sembra che si sia fatta una sorte ben preferibile di quella dei sei re coi quali avemmo l'onore di cenare». «Le grandezze», disse Pangloss, «sono molto pericolose, secondo ciò che ne dicono tutti i filosofi, perché finalmente Eglon, dei Moabiti, fu assassinato da Aud, a Salonne restò appiccato per i capelli e ferito da tre lance». E qui continua con un elenco di sovrani potenti che sono stati uccisi e morti di morte violenta, spesso per congiure. «Io so ancora», disse Candido, «che bisogna coltivare il nostro giardino». «Voi avete ragione», ripette Pangloss, «poiché, quando l'uomo fu messo nel giardino dell'Eden, vi fu messo ut operaretur eum, perché lavorasse, ciò che prova che l'uomo non è nato per il riposo». «Lavoriamo senza ragionare», disse Martino, «questo è il solo mezzo di rendere la vita sopportabile». Tutta la piccola società prese parte in quell'odabile disegno. Ciascuno si mise a esercitare i suoi talenti. La piccola terra fruttò molto. Cunegonda era in vero ben deforme, ma ella divenne un'eccellente pasticcera. La vecchia ebbe cura della biancheria, Pangloss diceva qualche volta a Candido. «Tutti gli avvenimenti sono concatenati nel migliore dei mondi possibili, perché finalmente, se voi non fosse stato scacciato a pedate da un bel castello per amor di Cunegonda, se voi non fosse stato messo all'inquisizione, se non aveste scorso l'America a piedi, se non aveste dato una stoccata al barone, se non aveste perduto tutti i vostri montoni del buon paese del Dorado, voi non mangereste qui dei cedri canditi e dei pistacchi». «Benissimo detto», risponde a Candido, «ma intanto bisogna coltivare il giardino». Ecco, quindi la conclusione di Candido è una conclusione di buonsenso. Gli altri personaggi sembrano aver indicato a Pangloss che forse è inutile farsi troppe domande, stare a lucubrare tanto su quale sia il miglior dei mondi possibili, e la soluzione viene dalla conoscenza di quel vecchio possessore di terreni che lavorava e faceva fruttare la sua terra. Quindi, se ognuno coltivasse il proprio giardino, la terra sarebbe un posto migliore, quindi se ognuno facesse la propria parte. Chiaramente qui possiamo poi partire da questo punto per una serie di riflessioni sul lavoro, dato anche che siamo in prossimità del primo maggio. Quindi, la valenza del lavoro, ma il fatto che il lavoro, per quanto, appunto, come dice Candido, libera l'uomo, dice quest'opera, dice libera l'uomo da tre mali, la noia, il vizio e il bisogno, non deve essere la sola attività dell'uomo. Deve essere un'attività che dà dignità all'uomo, ma non che lo rende schiavo. Quindi qua poi potremmo fare eventualmente un approfondimento, perché l'argomento è ricco di possibili riflessioni.